Ciao a tutti, oggi travaseremo delle piccole foglie di basilico, noi avevamo già piantato i semi, meglio di seminato, scusate, sono contenendo ancora il primo lato. Allora, ti invito a mettere un mi piace e iscriviti al mio canale, supportami e non lasciare che l'orto marcisca come questo, con un senz'amore. Fai in modo che la nostra community cresca come un orto, iscriviti e metti mi piace e commenta anche, e iscriviti il tuo pensiero per il commento, dai. Iniziamo. Vedete? Devo mi saldare la colpa. Mettete due da una parte. Aspettate. Non ci fa niente, non ci fa niente, vuole l'eccesso della terra, mischila bene il nome, è quello di riempirlo di terra. Non ci fa niente, non ci fa niente, non ci fa niente, non ci fa niente, non ci fa niente. Guarda come è umida. Ma sì, va bene, no, ma non è bagnata, è umida a meno, va bene, stai tranquillo. Eccola ancora. Eccola. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Queste quattro piante che avete visto serviranno per servire le altre piantine di basilico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nonno. Grazie a tutti. 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 Ciao da Ambo.